Te vinto il canto, noi gio a te mi siamo, te scuso tutte, erode del città, dopo sti fatti di te vuoi vendicare, e anche a verità non vive molto più da, a me ti spendo, con pronti e sorsi, e me ne va, te vinto un cariccio. Questa è l'isola dove sono nato, l'isola di Pellestrina e San Pietro Involta, un'isola ancora con una buona percentuale di pescatori, e una volta erano proprio solo pescatori. Qua è nato, sono nato io, mio padre, i miei nonni, i miei fratelli, i miei zii, un'isola dove c'è ancora il vero contatto umano, vero, reale tra la gente. Quando chiedi una piccola informazione ti fanno un gran sorriso, è come se parlassi a un familiare, a un fratello, questo è il modo di vivere di quest'isola, dei valori alti alti che purtroppo nelle città, nello stress e tante altre cose non le trovi. Dove da tutto il Triveneto si spostano con le barche per venire a mangiare i miei tramezzini? Con queste due parole vi voglio salutare, sperando che ci possiamo incontrare ancora presto un'altra volta. Dove? Il ristorante, no, Trattoria Bardahan. Dove? San Pietro Involta, Via Laguna. Quindi, siamo tutti. San Pietro Involta, Time. Canta dopo quasi più, che dopo quasi me fa tanto bene. Canta dopo quasi più, che dopo quasi me fa tanto bene. E' la porta un vinto dei due pori, e' la porta un vinto dei due pori, e' la porta un vinto dei due pori, che dopo quasi me fa tanto bene. Gigiota la mia verità. Per quanto a parte di germi Grazie a tutti.